E' ora di cambiare, potete fidarvi. Poi sarete finalmente pronti per il futuro che vi aspetta. Per prima cosa strappiamo tutti i denti e li sostituiamo con mandibole d'acciaio adatti a macerare le carri e le pavere ancora al limite. Capiamo gli occhi e inseriamo al loro posto due visori ad infrarossi capaci di individuare nemici e vittime a rinforzio. Prendiamo i vecchi muscoli, li impiazziamo con protesi al testosterone, ideando il combattimento corpo.